A Schio la moda incontra il digitale, un confronto tra gli studenti del fashion e gli esperti del settore sui cambiamenti portati dal digitale. Gli ospiti hanno risposto alle diverse domande del pubblico riguardante l'incontro della moda con il digitale. Location dell'evento il lanificio Conte, importante per l'archeologia industriale, era composto da un'area di tre ettari, delimitata da alte mura, nella quale erano presenti l'opificio originale, la residenza e il parco padronale. Dal 1860 l'opificio e l'area furono soggetti a importanti modifiche a causa dello sviluppo della vicina industria Rossi. Un'industria tessile importantissima e una delle più grandi d'Italia nella seconda metà dell'800. La prosperità e la fama di Schio si devono principalmente all'arte della lana. Il telaio Jacquard è un telaio più complesso rispetto al telaio normale per la tessitura che ha tra ordito e trama. Ha praticamente una costruzione sopra. Che cosa serve il telaio Jacquard? A fare dei tessuti lavorati con molti disegni. C'erano praticamente delle schede forate in cartone circa la dimensione di un A4 con tantissimi fori che poi fu l'inizio del sistema binario del computer. Molto importanti sono state le famiglie Conte e Rossi che contribuirono con iniziative industriali che svilupparono la produzione e migliorarono le condizioni dei lavoratori. Niccolò Tron era un ambasciatore della Repubblica Serenissima in Inghilterra e aveva praticamente introdotto a Schio la navetta volante. La navetta volante è uno strumento che nel telaio praticamente porta il filo di trama da una parte all'altra. Famoso è anche il giardino Jacquard con un infio creato dietro la serra. Scopo del giardino quello di ospitare nuove strutture aziendali e collegare la città. Mettere insieme quello che sembra assoluta avanguardia, iper contemporaneo, per me digitale in un posto che da secoli fa materialmente le cose come questo è come dire il simbolo per me perfetto per definire la terza ripubblica di Mastia. Grazie a tutti.